Il libro si intitola Immigrazione, cambiare tutto, perché il problema delle migrazioni è legato non tanto al sé, ci saranno e saranno sempre di più, perché noi siamo sempre più mobili in tutto il mondo, nel primo come nel terzo, ma è legato al come e al quanto. Gli squilibri demografici ci dicono che l'Europa si asciuga mentre l'Africa si espande, le diseguaglianze globali, il procapite per esempio ci dicono, ci parlano di differenze molto forti che determineranno ulteriori migrazioni, poi pensiamo ai cambiamenti climatici, a tante altre cose, alle guerre naturalmente, che producono mobilità. L'anno scorso, il 2016, è stato l'anno della seconda guerra mondiale in cui si è mossa più gente e in cui ci sono stati più rifugiati. Ecco, questo ci dice che il fenomeno va gestito, ma allora bisogna cambiare, cambiare tutto, cambiare impostazione, cominciare a dirsi che per esempio il riconoscimento dell'asilo, così come è stato pensato quando erano poche centinaia di persone che venivano dai paesi dell'est, ormai non ha più senso pensato in questo modo. Sono soprattutto migranti economici e le conseguenze però sono soprattutto di tipo culturale, non economiche, perché il mercato del lavoro non solo è in grado di assorbire le persone che arrivano, ma ha bisogno di più di quelle che stanno arrivando adesso.